ciao a tutti in questa domenica di risurrezione ci viene proposta la guarigione della figlia del capo della sinagoga che ha 12 anni e la guarigione dell'emoroissa che da 12 anni invece soffriva di perdite di sangue quindi la ragazzina è all'inizio della sua vita mentre la donna è alla fine di una lunga sofferenza che dura tutti quegli anni un tempo questi 12 anni che pesa in modo diverso evidenzia due limiti umani nel caso della donna dell'emoroissa la malattia che ci taglia dalla vita di relazione con gli altri e nel secondo episodio la morte improvvisa nel pieno delle nostre attività sono degli spazi in cui però dio interviene in cui c'è qualcosa di umano da guarire la modalità chiaramente sono note solo a lui ea noi deve essere sempre rimanere in testa che nulla è impossibile a dio e quali sono le caratteristiche di questa guarigione se scuriamo il testo del vangelo la parola salvato salvata precede sempre la parola guarigione infatti vediamo che le richieste di già di giaro c'è scritto perché sia salvata e viva l'emoroissa pensa se riuscirò a toccare le sue vesti sarò salvata e senti che era guarita dal male e gesù poi le dice la tua fede ti ha salvata si guarita dal tuo male quindi dentro una relazione di salvezza in cui riconosciamo di essere stati salvati è possibile la dimensione della guarigione che attendiamo poi la guarigione prevede in entrambi gli episodi un tocco nel caso dell'emoroista il tocco del mantello di gesù dove c'era scritta i legni del mantello dove c'era scritta la parola di dio e questo ci indica ci può indicare che la parola di dio è forte potente che può salvare e poi nel caso dell'episodio della panciulla il tocco della della mano da parte di gesù questo tocco significa per noi che la guarigione passa attraverso un contatto concreto con la parola di dio un contatto ad esempio attraverso un momento concreto di preghiera in questi due episodi possiamo anche vedere quanto dio abbia voglia di sporcarsi le mani con noi al tempo toccare un morto significava diventare impuri a gesù non gli interessa niente di questa cosa qui lui vuole il bene e quindi si gioca anche sotto questo aspetto anche per quanto riguarda il morais era addirittura lei già impura e si fa toccare e quindi questo appunto ci dice quanto quanto lui si si gioca ogni volta per noi poi questo atto di fede in dio può guarire noi ma può essere anche chiesto per persone a noi care e quindi possiamo chiederlo anche per i nostri fratelli ecco allora che cosa ci dice oggi gesù queste parole non temere abbi soltanto fede buona domenica